E' agosto, siamo andati in ferie, che bello! Gli hacker no! Ciao, sono Davide Galanti di Server Lab. Negli ultimi 4-5 giorni la Microsoft rilascia tre patch definite critiche. Critiche sono quelle cose serie, quelle cose da guardare con attenzione. Siamo andati a guardare che cosa riguardano queste patch. Due Internet Explorer, tutte le versioni, dalla 8 alla 11. Una, il Remote Desktop Protocol. Il Remote Desktop Protocol è quello che consente di collegarsi a un server in Terminal Server o per questioni amministrative. Queste tre vulnerabilità, definite critiche, quindi importantissime da mettere su immediatamente. Perché? Perché riguardano la possibilità di un esterno di eseguire codice. E chi è questo esterno e come ci arriva? Ci arriva, ad esempio nel caso dell'Internet Explorer, durante la navigazione. Io sto navigando, guardo un sito, nel sito c'è uno script malevolo, che qualche d'uno ha messo. Io non posso controllare i siti su cui vado a navigare. Se ci hanno messo qualche cosa di malevolo non è colpa mia e non posso far nulla. È qualche cosa di sconosciuto, qualche cosa che il mio antivirus non conosce, il mio faro non conosce. E che esegue dei processi sulla mia macchina, col mio consenso. Perché sono io utente che gli autorizzo questa azione. Quindi nessuno può impedire questo. Microsoft dice, ok, se siete amministratori avete meno problemi. Meno problemi? Ma io non ne voglio avere nessuno di problemi. Come meno problemi? Io pensavo che mettendo l'utente come user e non come amministratore non avesse nessun impatto sul sistema. Meno problemi. Alla lettera, vi faccio vedere l'articolo che cita Microsoft, il numero dell'articolo della persa di sicurezza di Microsoft e dice esattamente così. Quindi non siamo al sicuro. Come si fa a essere al sicuro e proteggere i nostri sistemi dalla distruzione o dal prelievo dei dati? Non so quale sia la cosa peggiore. Scegliete voi. Per essere al sicuro dal prelievo dei dati o dalla distruzione, dice il Tales Group, ad autorevole consiglio per la sicurezza francese, per la sicurezza della cyber security francese, dice 5 capisaldi. 1. Leggo, cito testualmente. Application white listing. 2. Configurazioni standard dei sistemi. 3. Applicazioni delle patch di sicurezza, quelle che rilasce il produttore. Applicazioni delle patch di sicurezza, delle applicazioni. 5. Ridurre i privilegi amministrativi. Ma al primo posto c'è l'application white listing, senza il quale tutto il resto non serve a un tubo. E che non serve a un tubo, ce lo dice la stessa Microsoft. Per applicare un white listing applicativo, una white listing che funziona, l'unica maniera è che sia facilmente implementabile. Abbiamo già visto fallire tanti sistemi di application white listing. Vi do un consiglio, fatevi un giro su www.avecto.it. La soluzione è lì, www.avecto.it. Server lab.